Hai citato il collettivo per l'economia fondamentale, come punto di riferimento partirei dalla definizione del collettivo, esiste un insieme di beni e servizi che ci costituiscono come cittadini, cioè la cittadinanza, la piena cittadinanza, il pieno godimento della cittadinanza richiede una infrastruttura economica di beni e dei servizi fondamentali, che noi traduciamo come fondamentale il termine foundational, che è di base. Quelle attività economiche che incidono sulla qualità della vita dei cittadini, l'istruzione, l'assistenza ai bambini e agli anziani, la salute, ma anche e soprattutto la parte, non soprattutto no, ma diciamo in questo caso particolarmente importante, quella che noi chiamiamo l'economia fondamentale materiale, non tanto la parte provvidencial, cioè il welfare e le politiche sociali, ma la parte material, fornitura di gas, acqua, energia, ma anche appunto trasporti, accesso al cibo, via dicendo. Tutte queste attività che sono trasversali, in molti casi sono pubbliche, in altri sono private, ma attraversano in modo innovativo, ti fanno guardare l'economia con occhi nuovi, sono attività necessarie alla vita quotidiana. Noi ci alziamo la mattina, attiviamo certe routine, che vanno dall'acqua al gas a preparare la colazione, a controllare il conto in banca, a muoverci per andare al lavoro, per portare i figli a scuola e diamo per scontato l'esistenza di un sistema che funziona e che ci fornisce accesso a questi beni.